Salve ragazzi, registro questa pre-intro per dirvi semplicemente due piccole cose Una, non mi aspettavo veramente una cosa del genere, cioè mi aspettavo che mia mamma comunque piangesse Perché comunque nessuno mai gli ha mai fatto un regalo del genere, ecco Però non mi aspettavo quello che è successo dopo Quindi spero che vi piace il video Più che altro volevo anche informarvi della seconda cosa Che purtroppo non so il motivo perché la webcam mi ha dato questa qualità Mi dispiace appunto per quella e vi voglio dire subito che mi è arrivata la nuova fotocamera Quindi la videocamera nuova che dovrò cercare di sistemare perché io non so usare queste cose Quindi tanta roba Volevo anche ringraziare Heisenberg, Menestresser, Sabri Sarker e Rainbow Jan perché grazie a loro ho potuto fare questo piccolo regalo a mia mamma Che per lei è molto 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 grande Veramente ragazzi non so come ringraziarvi Grazie Heisenberg, grazie Menestresser, grazie Rainbow e grazie anche Sabri Sarker Vi voglio bene a tutti quanti, non solo loro anche tutti i moderatori e tutti gli iscritti a questo canale Vi ringrazio ancora perché comunque siete attivi E niente, vi lascio direttamente al video Scusatemi non ve lo dovevo dire per forza questo Ciao ragazzi Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui perché ho voluto fare un regalo a mia mamma Ovviamente mia mamma sa che ho comprato un regalo per lei ma non sa cosa appunto gli ho regalato Quindi adesso la chiamerò e la farò venire qua Uno, due e tre Mamma 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 Che c'è? Allora tu ti ricordi che io Ti ho Fai una mano, vieni un po' più avanti Ti ricordi che io ti avevo detto che ti stavo facendo un regalo e che ti ho comprato un regalo, no? Oh Quindi questo regalo secondo te cosa può essere? Non lo so Non ne hai la più pallida idea, non ti viene in mente niente, giusto? Quindi adesso lo prendo e te lo faccio vedere Il regalo Ok? Ah Prendo il regalo nell'armadio, regà Vediamo Ok Qui c'è il regalo, no? Ok? E se tu questo regalo lo devi aprire Apri Apri E poi vediamo la reazione Vediamo la reazione, ragazzi Questo video non lo taglio Cioè rimane così Com'è? Voglio vedere la reazione Vediamo, eh E poi vediamo sta tremando io non sapevo che piangere non sapevo che piangere non ho bisogno, le ringrazio raga io che devo dire è imbarazzante una roba del genere perché comunque ha sempre fatto tutto per me io non ho mai fatto niente e quindi ce lo merita lo sapevo che avrebbe avuto questa reazione lo sapevo perfettamente però una volta ogni tanto ci vuole che fate un piccolo regalo anche alla vostra mamma perché è quella che comunque vi ha sempre cresciuto non mi ha mai abbandonato regala io che vi devo dire grazie a tutti per aver visto questo video però devi avvicinare vieni vieni no è perché non ti sentono bene devi avvicinare dai quello devi guardare aspetta guardi vai ti voglio dire ti voglio dire solo una cosa non piangere guarda che questo video poi lo vedo non mi dobbiamo dire voglio che lo sappiano tutto che io vivo solo per te non mi ha mai nessuno fatto regalo mai li ho fatti sempre io agli altri ti permetti sei tutta la mia vita e nessuno ti deve permettere di parlare su di te perché io vivo solo per te grazie ti voglio bene ma poi non è una piangere anche voi eh dai basta raga io sto con qui dai ci serviamo alla prossima veramente ti voglio bene un bacio e lo la mia vita Grazie a tutti.